In questo videogioco Mortal Kombat 11, visto che io sono Gabriel Hosta, il famoso youtuber, e voi siete i miei follower che mi seguite da tanto tempo, vorrei farvi vedere la friendship di Robocop che si intitola Robodanza. La facciamo in versione normale, bisogna fare sinistra, giù, destra, giù, cerchio. Vediamo che cos'è questa Robodanza che fa Robocop in questa friendship, e poi ditemi se vi piace o non vi piace. Guardate cosa fa, ve lo faccio vedere subito, io ve lo spiedo, vediamo se fa ridere la Robodanza di Robo. Guardate come sballa! Ha fatto una bella Robodanza Robocop! Ricordatevi che Robocop è il mio personaggio preferito in assoluto! Io voglio battere le mani a Mortal Kombat 11, che mi ha messo questo personaggio, perché è incredibile, ma è vero! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale adesso, cliccate su mi piace, dovete metterlo un mi piace, un pollice all'insù, e poi ditemi se queste friendship di Mortal Kombat 11 sono belle. Vabbè, ciao a tutti! Detto questo, grazie a tutti per la visione!